Sull'inceneritore di Ugozzolo, sul possibile aumento del volume di rifiuti da smaltire da 130 a 190.000 tonnellate l'anno e sull'avvio del nuovo impianto per il trattamento meccanico-biologico al fianco del termovalorizzatore, la polemica sale di tono ogni giorno di più. Da Parme del territorio un coro generalizzato di no. Non è possibile trasformare la terra della Food Valley in una cittadella dei rifiuti. Oggi nuova puntata di questo muro contro muro. La Regione, stara dalla parte del territorio e dei cittadini, lo ha chiesto nell'aula del Consiglio regionale Andrea Bertani del Movimento 5 Stelle. Ha spiegato come la scelta di IREN non sia coerente con le azioni politiche che la Regione vorrebbe mettere in campo per la gestione dei rifiuti, a partire dalla legge regionale sull'economia circolare del 2015. Il piano di gestione dovrebbe prevedere l'ottimizzazione degli impianti esistenti e il progressivo spegnimento di tutti gli inceneritori, ha detto Bertani. Gli ha risposto l'assessore all'ambiente Paola Gazzolo. È stato già avviato, ha detto, un tavolo di confronto con IREN. Vorrei una presa di posizione netta, non l'ennesimo tavolo, ha risposto l'esponente dei 5 Stelle. Parma è diventata capitale della cultura, non si può gestire in questo modo un problema che è strutturale. La Regione Emilia-Romagna ribadisce di non avere intenzione di arrivare a quella soglia e rinnova l'invito a convocare un tavolo con tutte le parti interessate per trovare una soluzione condivisa con IREN che ha disdetto l'intesa alla scadenza e arrivare ad un nuovo accordo volontario che limiti la capacità dell'inceneritore.